Arance belle grosse e gustose al sapor di marijuana, il carico di 20 tonnellate proveniva dalla Spagna e i finanzieri sono riusciti ad intercettarlo prima che la droga arrivasse a destinazione. In tutto sono stati sequestrati 850 kg di hashish e in manette è finito un insospettabile autotrasportatore 38enne di Nola. L'uomo è stato intercettato da una pattuglia di baschi verdi del gruppo pronto impiego di Napoli durante un normale servizio di controllo. Come spesso accade in questi casi, è stato il comportamento particolarmente agitato del conducente del mezzo alla guida di un tir con targa italiana a fare insospettire i finanzieri. I militari, avendo notato nell'uomo evidenti segni di tensione, hanno deciso di proseguire il controllo anche sul carico trasportato. L'autista è stato quindi invitato a seguire gli agenti presso la sede del reparto, dove nel frattempo erano giunti i colleghi della sezione antidroga della tributaria di Napoli insieme al nucleo cinofili. Dopo aver scaricato interamente l'automezzo delle circa 20 tonnellate di arance, le fiamme gialle hanno quindi scoperto i panetti di hashish abilmente sigillati in sacchi di juta. La droga immessa sul mercato avrebbe fruttato circa 3 milioni di euro. L'autotrasportatore è stato arrestato e condotto al carcere di Poggio Reale, mentre la sostanza stupefacente è stata sequestrata.